I tagliotti, pensateci un po', i servizi segreti più importanti al mondo, quelli americani e quelli israeliani, hanno fallito. Che strano! L'11 settembre 2001, degli aerei così kamikaze vorranno sulla città più blindata del mondo, New York, e colpirono due, le Teen Tower, ve lo ricordate? E anche lì i sistemi della difesa e dell'intelligence più importanti del mondo ebbero un blackout di 24 ore? Che strano! Mi ricorda tanto adesso con Israele, servizi segreti più importanti del mondo, anche lì un blackout, hanno lasciato fare questi di ammass. Chissà come mai, bastava che li ammassassero tutti, così avranno la scusa, come l'hanno avuta allora per attaccare con la scusa delle armi chimiche, così ce l'hanno adesso per sterminare i palestinesi? Cosa ne pensi? Dimmi cosa ne pensi? Ragiona prima!